Saluto Paolo Barnard, ciao Paolo. Settimana scorsa Paolo Barnard aveva scosso lo studio e non solo dicendo questo. Voglio raccontare in 30 secondi un episodio che mi è successo alcuni mesi fa. Non posso dire né dov'ero né chi è la persona protagonista, posso dire che è un alto ufficiale della Guardia di Finanza. Questo uomo mi ha convocato, mi ha guardato in faccia e mi ha detto, dottor Barnard io sto disobbedendo agli ordini del ministero perché se mi andassi i miei uomini a fare i controlli nei negozi, nelle botteghe, nei capannoni dai piccoli e medi imprenditori io manderei al macello delle famiglie italiane. Ora io mi rivolgo ai vertici della Guardia di Finanza e dico voi dovete imitare l'esempio di questo collega. Dovete disobbedire a un governo di Matteo Renzi che è servo di una tecnocrazia europea che fa gli interessi di 100 speculatori e noi siamo 60 milioni di italiani, servo di una tecnocrazia europea che ha esautorato il Parlamento italiano, la nostra Costituzione e allora nel nome dell'Italia e di almeno due generazioni di nostri ragazzi voi dovete disobbedire, non mandate i vostri uomini a fare i controlli a chi sta cercando di sopravvivere disperatamente alla chemiotassazione dell'Eurozona. Paolo, prima di ritornare da te sul discorso delle tasse, saluto Andrea Polese perché Andrea Polese è un commerciante che, posso dire, ha preso un po' sul serio la provocazione di Paolo Barnard e racconta una storia di evasione. Sì, non la chiamerei evasione perché non ci riteniamo né evasori, non mi ritengo un evasore e non voglio essere etichettato come evasore. Io sono un semplice commerciante che ha sempre pagato le tasse e adesso non ce la fa più a pagarle e ho deciso di vivere, ho deciso di tenere aperta la mia attività, ho deciso di dar da mangiare a mia figlia e non pagare più le tasse perché non ce la faccio più. Non sei solo? Non sono solo, siamo in tutta Italia, siamo tantissimi. Quello che diciamo sempre è non uccidetevi, non suicidatevi piuttosto non pagate, non pagate. Allora, non pagate le tasse. Tasse, Paolo Barnard, entriamo nell'argomento. Sì, esattamente, io voglio dire questo, ho commesso un reato, ho invitato la Guardia di Finanza a disobbedire a questo governo di questo pupasso della troica che si chiama Renzi e voglio reiterare questo reato, reinvito la Guardia di Finanza a fare quello che ho detto. Però voglio spiegare che quello che sto dicendo si basa su delle nozioni di macroeconomia molto solide. L'evasore fiscale non è mai un criminale sociale, non lo è e non lo può essere. Dal bottegaio al grande vasore e vi spiego perché. Perché lo Stato crea la moneta e mette la moneta, la deve prima spendere per cittadini e aziende e solo dopo la può ritirare in tasse. È impossibile che le tasse che vengono ritirate dopo la spesa finanzino la spesa. Non c'è un ospedale, non c'è un asilo nido, non c'è una pensione che venga finanziata dalle tasse e questa è una legge di macroeconomia immortale. Allora, cosa servono le tasse? Le tasse servono a qualcos'altro. Lo ripeto molto brevemente perché se no uno dice ma allora cosa serve tassare? Perché gli stati moderni, scusate, gli stati moderni tassano? Tassano perché le tasse sono il metodo che lo Stato usa per imporre ai cittadini di usare quella moneta. Si tassa per regolare l'economia. Se l'economia corre troppo le tasse si alzano, se l'economia si impantana le tasse si abbassano. Oggi dovrebbero abolire l'IVA a zero e il cugno fiscale a zero. Si tassa per contenere l'inflazione perché se c'è troppo denaro che circola si drena denaro con le tasse e si tassano i grandi capitali per evitare che gli oligarchi diventino addirittura più potenti degli stati. Guardate che una delle concezioni errate dell'evasione fiscale riguarda anche i grandissimi evasori, quelli che mettono i soldi nei paradisi fiscali perché tutti i capitali evasi dalle tasse, prima o poi vengono spesi, rientrano nel circolo economico e rientrano nella domanda. Però abbiamo detto che l'evasore fiscale non è un criminale sociale perché non nega allo Stato né un posto letto, né una pensione di ospedale, né una pensione, né un asinolindo. E allora quando io dico che l'Italia deve arrivare allo sciopero fiscale io non sto parlando di crimini contro il sociale e qui voglio fare un appello, voglio fare un appello ai comuni e ai sindaci italiani perché il sindaco si percepisce regolarmente come il piccolo politico. Diciamo, uso una parola informale, come uno degli sfigati della politica. Nella realtà i comuni italiani, che sono 8.057, sono l'economia di questo paese. Potete scrivere una pagina di storia. Mettetevi assieme in 500, in 1000, in 1500, bloccate i trasferimenti fiscali a Roma. Spaccate l'appartenenza di questa nazione all'Eurozona. E voi, spaccando l'obbedienza alla chemiotassazione imposta dalla Troica, potete veramente scrivere una pagina di storia. Telefonatevi da questa sera, sindaci, mettetevi assieme. Paolo Barra, ciao Paolo. Riprendiamo il filo del discorso, in un certo senso. Sì, comincio con una dichiarazione di Renzi assolutamente straordinaria. L'Italia non si farà dettare la linea dalla UE, dall'Unione Europea, era sui giornali in questi giorni. Bene, diciamolo subito, e lo voglio dimostrare in maniera molto seria, se sulla sede del Presidente del Consiglio in questo momento ci fosse un FON e non Renzi, sarebbe esattamente la stessa cosa. L'Italia ha firmato, ratificato in legge nazionale tre trattati, vado molto rapidamente, il semestre europeo che delegittima completamente il Parlamento italiano. La legge di bilancio del Paese deve essere prima presentata alla Commissione Europea e solo successivamente al Parlamento sovrano, cioè ex sovrano. La Commissione Europea può intervenire senza alcun ostacolo su redditi, tasse, servizi, Stato sociale. Il Trattato di Lisbona, sempre legge nazionale, dice e stabilisce che il Parlamento italiano deve fare prima gli interessi dell'Unione Europea e dopo gli interessi nazionali. Le leggi passate dal Parlamento italiano devono essere adeguate sempre, nel 100% dei casi, alle direttive della Commissione Europea. Il fiscal compact stabilisce che dobbiamo fare il pareggio di bilancio, che come sappiamo vuol dire dare agli italiani 100 soldi e tassarli per 100 soldi e lasciargli assolutamente niente per il Paese. Se non facciamo questo, se Renzi disobbedisce, cioè se il FON disobbedisce, siamo sottoposti a una procedura di deficit eccessivo che è di fatto un processo, possiamo essere multati per 2 miliardi di euro. L'Italia, il Ministero del Tesoro, deve chiedere il permesso alla Commissione Europea prima di emettere i propri titoli di Stato, il deficit di bilancio dovrà essere lo 0,5%, cioè sostanzialmente il deficit di bilancio, che è la ricchezza nazionale, scompare nell'economicidio dell'Italia. Ora, l'Italia è un Paese che ha una spesa pubblica di 800 miliardi, toglie 80 miliardi di interessi sui titoli di Stato e toglie 220 miliardi delle pensioni, rimane una delle spese pubbliche più basse d'Europa, toglie 111 miliardi della sanità, che è la spesa sanitaria più bassa di tutta l'Europa, dove andrà il lugubre esattore delle tasse, signor Padovan, a fare i tagli, sempre negli stessi posti, cioè nelle pensioni, nella sanità, nell'occupazione pubblica, stipendi pubblici e ovviamente ci tasserà. Ora, questo lugubre esattore farà il gioco delle tre carte, lo vediamo tutti i giorni sui giornali, il nostro Presidente del Consiglio, Renzi, che è il FON a Roma, agli ordini della Troica, che è la reale potenza che comanda questo Paese da quando abbiamo perso totalmente la sovranità, beh, Padovan dovrà fare il gioco delle tre carte e tutto quello che investe verrà ripreso con gli interessi, perché come dicevamo prima, l'Italia deve restituire ogni singolo centesimo di spesa pubblica ai mercati, ai capitali privati. A me dispiace dire queste cose di fronte a persone che ne soffriranno veramente. Dire che abbiamo un Presidente del Consiglio e un governo autonomo è veramente un insulto alla sofferenza di milioni di italiani. E sabato ci sarà l'ennesimo rincaro della benzina.